benvenuti in questo video nel quale vedremo come usare le risorse già in nostro possesso messe a disposizione delle case editrici molto spesso queste risorse sono estremamente ricche talora le case editrici mettono a disposizione poco più che il pdf del libro ma ormai negli ultimi anni si sono attrezzate e quindi dietro registrazione possiamo trovare tantissimi materiali utili perché questo video e perché questo consiglio essenzialmente per tre motivi il primo è che una videoconferenza per esempio con google mito con qualunque altro strumento è qualcosa di piuttosto dispersivo all'indubbio vantaggio di simulare una specie di presenza specie quando si trasmette il volto oltre che la voce tuttavia chiunque l'abbia usata avrà visto che l'interazione spesso è difficoltosa mit funziona molto bene quando si trasmette uno a tanti quando però inizia l'interazione allora cominciano tutta una serie di piccoli grandi disturbi dal fruscio al microfono che non funziona alla connessione che salta che la rendono a volte snervante e didatticamente inefficace questo non vuol dire che mit sia inutile vuol dire che ha dei limiti che per superare i quali spesso bisogna fare molta molta fatica in altre parole 45 minuti di mit spesso implicano 10 12 minuti di lezione vera un'altra idea è quella di realizzare dei video tutorial come questo per esempio i video tutorial a mio avviso sono molto più efficaci di mit perché in pochi minuti concentrano l'attenzione dello studente su un argomento è chiaro che non hanno l'interazione ma hanno l'enorme vantaggio di essere usabili in qualunque momento una volta che sono andati online e oltre tutto ci serviranno anche dopo questa fase il problema è che non tutti sono in grado al momento di registrare dei video tutorial e in ogni caso la loro registrazione richiede un certo tempo l'ultimo motivo per cui invito di usare le risorse è perché di fatto i ragazzi li hanno già pagate acquistando il libro e quindi sono già una risorsa in nostro possesso cosa serve per accedere a queste risorse? nella stragrande maggioranza dei casi serve registrarsi al sito della casa editrice qualche volta occorre farsi abilitare i testi dal distributore questo è il caso di Pearson per esempio mentre invece per quanto riguarda gli studenti loro si devono registrare in autonomia questa guida tuttavia si rivolge soprattutto ai docenti perché prevedibilmente gli studenti hanno ora il libro cartaceo sotto gli occhi quindi se vogliamo fare una lezione proiettando il libro loro questo libro ce lo avranno in formato cartaceo sotto gli occhi possiamo registrarsi quindi a queste case editrici anche attraverso il nostro account liceosansepolcro.eu quello che vedremo tra qualche minuto sarà una carrellata di tre ambiti hub scuola, vale a dire il mondo mondadori il mondo Pearson e poi quello Zanichelli queste tre sono le maggiori, le più diffuse forse anche quelle meglio sviluppate tutte le altre funzionano essenzialmente come queste quindi se anche qualcuno di voi non dovesse avere Mondadori, Pearson o Zanichelli vedendo il funzionamento generale capirà tutto sommato bene come potersi muovere anche con altre case editrici la prima risorsa che vi mostro è quella di hub scuola hub scuola è uno degli ambiti forse più ricchi quello forse tra quelli meglio sviluppati ora occorre andare nel sito di hub scuola fare il login e come vedete io qui l'ho già fatto infatti la piattaforma mia mi ha riconosciuto scorrendo in basso si vedono tutti i libri che sono in nostro possesso in particolare ponendo ora di voler fare una lezione di grammatica latina io qui non vedo il mio libro quindi clicco su vedi tutti a quel punto me ne vengono mostrati altri il libro che ho attualmente in adozione per quanto riguarda il liceo classico è il tantucci poniamo quindi di voler fare una normale lezione sul libro degli esercizi quindi io clicco su esplora e la piattaforma mi chiede cosa voglio di questo libro se il libro laboratorio 1 se sfogliarlo cioè a livello digitale se voglio i contenuti integrativi o se voglio ulteriori contenuti studiate apposta per il docente e unicamente per il docente io voglio fare una lezione il più possibile simile a quella che faccio ogni mattina quindi voglio il libro clicco dunque su laboratorio 1 che è peraltro il nome del testo mi si apre come vedete un'altra pagina quindi se ho il blocco delle aperture delle pagine devo sbloccarlo ed eccomi qui di fronte al libro a questo punto con questa parte in basso io posso gestire alcune cose che ora vi farò vedere per esempio la pagina singola la pagina doppia io al momento vorrò fare lezione grossomando la pagina 240 quindi scelgo la pagina ho la doppia visualizzazione e qui posso sfogliare le pagine come se fossi davanti al libro io con i miei ragazzi in questi giorni con i miei ragazzi del primo anno del quarto ginnasio si diceva una volta sto spiegando e lavorando sul futuro anteriore qui in questa parte dove sto muovendo il mouse c'è proprio la pagina dedicata al futuro anteriore se vedete qui è molto piccola quindi scelgo la visualizzazione singola eccola qui giro pagina ecco è ancora abbastanza piccola quindi si legge piuttosto male e quindi con questi tasti io richiamo lo zoom e ecco che posso fare la mia lezione su questa pagina proprio come se fossi in classe addirittura posso avere questi strumenti come per esempio la penna ecco per sottolineare o addirittura l'evidenziatore magari scelgo il giallo per magari scelgo un tratto molto grande per evidenziare alcune parti ecco questo è un semplicissimo modo di usare una risorsa che è già in nostro possesso nella maniera più simile possibile a quello che facciamo tutte le mattine in classe quindi io direi che queste risorse sono per noi ad oggi molto molto utili perché tramite una videoconferenza possiamo fare lezione in qualche modo come se fossimo in classe proprio con la stessa struttura quindi con il libro di testo con la lettura del libro di testo e volendo perché no anche con qualche esercizio se infatti sfoglio le pagine successive ecco che mi ritrovo qui a vedere essenzialmente tutti gli esercizi che ho assegnato già ad i ragazzi quello che vedete ora invece è il luogo Pearson che loro chiamano My Pearson Place anche qui ci si registra con una normalissima mail e una volta nella home si clicca su accedi e qui si inseriscono appunto le credenziali della registrazione ricordo che possiamo usare il nostro account www.chiocciolaliceosansepolcro.eu una volta cliccato qui si arriva a questa parte questa parte è la sezione dove abbiamo i libri attualmente in uso i libri attualmente in uso per quanto riguarda Pearson devono essere attivati dal distributore quindi non possiamo attivarli in autonomia come fanno i ragazzi questi che vedete sono appunto dei libri in uso oppure dei libri che il distributore ci ha fornito in formato digitale per la scelta del prossimo anno poniamo che io voglia fare una lezione sul piacere dei testi clicco questo testo e mi appaiono analogamente a Hub Scuola di Mondadori le varie opportunità che posso avere posso avere il laboratorio delle competenze linguistiche che è un volumetto a parte oppure volume 1 o volume 2 che sono poi i cartacei che hanno anche i ragazzi qui abbiamo di Dastore la guida del docente che sono ovviamente altre risorse cliccando sul piacere dei testi si apre ecco qui una pagina con la copertina del libro e una interfaccia nella quale io ecco quella che sto evidenziando ora nella quale io posso muovermi tra le pagine proprio esattamente come fossi davanti al cartaceo ricordo che se questa pagina non dovesse essere visibile dovrete con il tasto destro abilitare la visualizzazione in flash flash era una vecchia tecnologia sostanzialmente ora abbandonata per la visualizzazione di contenuti multimodiali purtroppo moltissime casitrici ancora hanno i test in flash e questo crea dei problemi non tanto nella versione PC quanto nella versione mobile gli smartphone non leggono praticamente più il formato flash comunque questo vuol dire essere di fronte a una pagina poniamo che io voglia fare una lezione che so sulla peste di boccaccio clicco ecco qui mi trovo di fronte al libro ecco qui se ritengo come qui mi pare che la pagina sia molto grande posso intervenire sullo zoom ecco qui e magari metterlo un pochino più piccolo e sfogliare poi normalmente le pagine proprio come fossi di fronte al cartaceo della mia classe posso anche scegliere la doppia visualizzazione cioè la visualizzazione a doppia pagina naturalmente a quel punto lo zoom deve diminuire ecco qui come nel caso di altre case editrici io devo e posso anche intervenire attraverso lo strumento dell'evidenziazione che si richiama da quassù e che mi permette di intervenire direttamente sul testo quindi questo è l'ambiente Pearson quindi se vogliamo fare tramite magari Meet la presentazione di una pagina di questo testo possiamo farlo simulando a tutti gli effetti quello che faremo in aula leggendo il libro cartaceo da ultimo vi mostro la risorsa le risorse zanichelli che a mio avviso sono le più accessibili perché sostanzialmente non richiedono registrazione allora quello in cui mi trovo ora è il canale YouTube di Zanichelli quindi è qualcosa di totalmente esterno alle risorse per l'insegnante in altre parole chiunque scrivendo su Google Zanichelli YouTube può ritrovarsi qui da qualche mese Zanichelli ha fatto una scelta molto audace dal punto di vista editoriale ma anche di grande successo cioè ha liberato tutti i video che prima erano chiusi dentro i testi dedicati ai docenti e li ha messi a disposizione di tutti finalmente questo è il modo di ragionare con l'online non chiudere le cose ma aprire le cose quindi all'interno di questa pagina trovate un numero altissimo di video peraltro alcuni fatti proprio con l'intenzione della classe capovolta quindi video molto brevi molto incisivi 5, 7, 8 minuti e non quei video fiume da 20, 30, 40, 50 minuti che spesso i docenti fanno non avendo la più palida idea né della classe capovolta né in generale di come funziona l'online per cercare i video possiamo andare sulle playlist che in qualche modo hanno cercato di fare ordine in tutti questi materiali e quindi per esempio che so abbiamo dei video operativi la classe virtuale come si usa ma anche video di matematica per esempio oppure di scienze qui vedete arte e immagine insomma abbiamo tantissime risorse vi consiglio al di là del periodo di iscrivervi a questo canale ecco qui cliccando su iscriviti in questa maniera al caricamento di ogni video sarete notificati quello che vi mostro ora invece è qualcosa che è un pochino diverso non sono video qui sono risorse più tradizionali risorse multimediali ma più tradizionali questo è Zanichelli aula di lettere e come vedete ci sono degli speciali ormai piuttosto facilmente immaginabili ma se scorriamo giù vediamo tantissime risorse che in questo momento possiamo ritenere molto utili alcune sono vedete molto tecniche legate a delle figure retoriche alcune sono invece legate alla grande attualità di oggi qui per esempio in questo documento che personalmente ho girato ai miei studenti si ragiona ora possiamo anche aprirlo su come possano reagire i musei chiusi alla disposizione della presenza del Consiglio dei Ministri museo chiuso non vuol dire arte chiusa museo chiuso significa che un certo tipo di fruizione adesso c'è inibita ma questo non significa chiudere un certo tipo di fruizione del fenomeno del fenomeno artistico e qui si fanno si fa riferimento all'esperienza di Varese per esempio come vedete in aula di lettere ma questo vale per tutte le altre aule ci sono dei menu di sinistra a sinistra che possono in qualche modo aiutarci a trovare i materiali più adatti alle nostre esigenze quella che vi mostro ora invece è l'aula di scienze uno dei portali in assoluto meglio realizzati per quanto riguarda l'insegnamento delle scienze nella secondaria di secondo grado anche qui basterà scrivere su google aula scienze zanichelli e sarete qui ci sono tantissimi materiali alcuni legati ecco come al solito all'attualità di questi giorni altri invece a tutt'altre esigenze quella che vi faccio vedere è oltretutto un'aula di lettere una sottospecie dell'aula di lettere dedicata al latino e greco quindi questo per dire che i materiali possono essere anche particolarmente specifici ora la conclusione di questo video è essenzialmente questa prima di confrontarci con delle videoconferenze magari un po' farraginose con Meet o prima di realizzare dei video tutorial che sulle prime può non essere semplice fare io direi sfruttiamo quello che già abbiamo e che spesso magari non sappiamo nemmeno di avere vale a dire le risorse straordinarie delle case editrici qui per esempio un piccolo suggerimento potrebbe essere questo i ragazzi ora sono a casa hanno accesso al cinema e allora perché non parlare di questo linguaggio al di là del fatto di essere o no docenti di lettere cioè il consiglio è anche misurarci con il momento e il momento forse richiede anche linguaggi diversi prove diverse e perché no anche compiti diversi quindi la conclusione è usiamo pure la videoconferenza usiamo pure i videodidattici ma non dimentichiamo il grande patrimonio che le case editrici ci mettono a disposizione e usiamolo una buona volta grazie a tutti